Sì esatto, quindi prende la presa, si esce da là per poi tornare a parte di qui, se vi capita di fare questa coda, voi due, mi raccomando, quindi devi dare gas, frenate quando siete fermi e accelerate, ok? Allora, Mauro 2, Marco 9, Riccarlo 23, fa controlla un attimo? Allora, Mauro 3, 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 fa controlla un attimo? Allora, Mauro 4, fa controlla un attimo? Sì, sì, sì. questo qua è in chioda massa tocca appena appena il freno che è già in chioda vai vai scendi scendi destra dai la 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.